Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento molto interessante che riguarda la nuova indennità una tantum di 150 Euro, che cos'è questo? Spetta a tantissimi soggetti, è praticamente la falsa riga di quella dei 200 Euro che era stata erogata ai lavoratori dipendenti e pensionati nel mese di giugno e luglio. Gli articoli 18 e 19 e 20 del decreto legge numero 144 del 23 settembre introducono in ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi. Nel nuovo decreto sono però ridotti sia l'importo di indennità sia il reddito massimo di riferimento. In particolare l'articolo 18 riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di ricevere con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre attenzione, novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 Euro, quindi non più 200 Euro. L'indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superi l'importo di 1.538 Euro e il lavoratore dichiari di non percepire la prestazione, il bonus diciamo per altro titolo. Attenzione, articolo 19 disciplina allocazione a nuova indennità di 150 Euro, però se il reddito al netto dei contributi previdenziali per l'anno 2021 non deve essere questo reddito superiore a 20 mila Euro. Una cosa importante, i lavoratori autonomi dallo scorso fine settembre hanno potuto fare domande e possono fare domande ancora tuttora logicamente, fino al 30 novembre è aperta la possibilità, consiglio di farlo un pochino prima, anzi con un po' di fretta, consente di fare la richiesta dei 200 Euro nel caso in cui abbiano avuto un reddito inferiore a 35 mila Euro per l'anno 2021. È possibile in questa domanda inserire anche la domanda per i 150 Euro a condizione sempre che il reddito però sia inferiore a 20 mila per il 2021. In sostanza, chi ha un reddito compreso fra i 20 e i 35 mila farà la domanda solo per i 200 Euro, chi invece ha un reddito sotto i 20 mila farà una domanda contestuale chiedendo sia i 200 che i 150, totale 350 Euro. Attenzione che il reddito da considerare è quello del modello reddito 2022 anno 2021 che deve essere preso però al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiare dell'abitazione principale. Questo lo dico perché in vari casi sembra che non spetti ma poi andando a detrarre i contributi previdenziali obbligatori ai artigiani e commercianti per esempio sicuramente poi invece spetta, quindi mai visto caso per caso. Sono tutti gli artigiani e i commercianti e tutti coloro che sono iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e poi anche per quanto riguarda i libri professionisti iscritti alla gestione separata IMS e poi anche i professionisti iscritti alle casse ma questo lo devono fare direttamente nella propria cassa, fare la domanda online alla propria cassa, mentre l'autorotono mi devono fare domanda all'INPS. Con questo termine di intervento e do appuntamento a tutti alla prossima settimana. Ciao a tutti!